Ciao, ciao. Lara Caravello, allora una vittoria importante, la terza di fila per Cuneo, una vittoria rimonta, una vittoria di squadra con il contributo di tutte. Sì, non è la prima volta che succede, anzi diciamo che è una costante delle nostre partite. Tutte le ragazze si fanno trovare sempre prontissime e danno il loro contributo sempre al 100%. Quindi è una vittoria di squadra che penso che ce lo meritiamo tutte quante perché veramente il lavoro che facciamo in palestra è veramente tosto e da parte di tutte. Quindi è la giusta ricompensa per un gruppo incredibile. Tre punti che mantengono intatti le vostre esperanze di arrivare ai play-off? Sì, sono tre punti importanti. Abbiamo visto che la classifica è molto corta, anche le squadre sopra di noi hanno perso qualche punticino. Quindi adesso noi cerchiamo di continuare in questo nostro percorso e abbiamo delle squadre molto difficili da affrontare, ma sicuramente ci faremo trovare pronte. È stata una partita complicata, come ci si aspettava. L'avete deciso quella rimonta del terzo setto. Com'è andata anche con la foto della panchiera? È stato veramente incredibile perché abbiamo fatto vedere da subito che non avevamo intenzione di mollare nessun pallone. Avevamo preso il ritmo e abbiamo capito che potevamo fare nostro quel set e così è stato. Abbiamo messo veramente il 100% e siamo riuscite a portare a casa quel set che poi ci ha permesso di respirare un pochino e rincominciare l'ultimo set a mille. Per te anche l'attivizzazione di NDP. Sì, sono molto contenta, infatti, però sono più contenta per la squadra e di tutte le ragazze che hanno contribuito a questa vittoria.